ok belli siamo dentro bella laga bella voi un paio d'ore dopo il lavoro dai vediamo cosa succede ma ora stavo controllando il cittadino ma non fa niente che è umido tecnicamente non dovrebbe essere umido visto che l'ho messo sotto il tetto eh quello sotto affianco alla colonna è umido speriamo non sia problematico speriamo di no se lo metto a spostare di nuovo tutto vediamo questo shop all'interno per il momento e poi partiamo e poi partiamo ahhh tutto un po' 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 h un po' aspetta su gente ma ho scritto stanotte ahhh sbagliato io 0,11 allora, manca solo il tavolo il lavoro qua è eccellente vediamo la porta va, perfetta ma questi due barili ma lo riapresi questa è un altro rigolo a base questa è la chiusa così non eravamo intenzionati a entrare mi sembra da qui no qui ha fatto il cancello interno così distanziato non si riusciva a fare più vicino poi soprattutto da dentro cioè da fuori interagisci sì dire proprio di sì dai va bene va bene così teniamolo così questo va bene così ma questa era quella cosa lì probabilmente gli dava dei problemi con con il posizionamento abbinati i coglioni qua che non riusci più a chiudere o chiudere dall'esterno ebbè la fregatura però ci sta non è male oh sì sì mi piace ci siamo guadagnati questo questo spazio oppure dai per il commercio è baratto qua è banchetto commercio è baratto ok chi ha da vendere qualcosa e tutto quanto di qua si scarica la merce da caricare si entra e fa questo poi ci metteremo il lucchetto quindi sempre sempre chiuso diciamo tra virgolette esposizione ce ne stanno pure quattro così di merci ma dire che si sta si si è una bella cosa sarà sarà lungo da riempire questo si però anche la minima cosa può essere utile a qualcuno dire che non c'è da fare niente di lavori qua dentro salvo che magari quella torretta si diceva si ma dobbiamo dire si ma dobbiamo dire eh si per forza si cazzo non posso entrare da qua si qua siamo costretti a chiudere sopra perchè sto cazzo di container mezzo coglioni che è una canna da pesca mazza che culo prendi si è costretti a chiudere su tutto quanto qua puoi fare la torretta che arrivi sul tetto senza completarla e si va al piano sopra peccato che qua non si possa chiudere la porta da dentro per forza la fuori bello una volta che abbiamo recintato tutto questo qua diventa ci possiamo mettere i camici possiamo mettere le cose che tanto diventa comunque parte integrante della cosa anche qua ci si può fare qualcosa ci sono delle macchine da vendere per caso saranno due o tre eh saranno due o tre mettiamo qua tipo esposizione saranno vuote due staccionate e via facciamo voglia partire questa qua si chiuso io ci voglia di guidare tu così finisco il volo di mangiare ok bambe bambe allora mettiamo giù la canna da pesca ah devo sostituire quel cazzo di piedi di porco con un'altra mazza non so se lo cerco la tro come siamo a spazi 365 questo camere un po' più importante forse mettiamo sta batteria queste scarpe buttale spostiamo questi due fucili magari nell'altro camion ci portiamo dietro una sola batteria ma pure la ruota eh sì però ma dire che allora a sto punto ci resta solo un tavolino da fare se riusciamo a farlo lo chiamano noi e poi a quel punto possiamo fare la torretta qua dentro questa per completare perfetto boh andiamo ti chiudo la porta in faccia in faccia adesso riusciamo a trovarlo anche una chiave inglese di quelle piccole è un po' No, 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 no. Siamo soli, io stai un line. Stiamo solo io e Teo dai Noi stiamo mal con lui Noi stiamo Non è vero, non è vero Eh si, da qua abbiamo preso le ruote per là. Non c'ho proprio niente. Però, oddio! Non ricordo che ci ne aveva uno vicino ai binari. Beh fammi girare un po' tutti questi casotti. Vicino ai binari? Si, però vanno. Ora si. Foto il coltello. Ok, arrivo con compagnia dietro. L'abbiamo devastata. Sta stronza. Andiamo alla polizia e già restiamo qua. Si, si. Tanto sono uscito che siamo solo atti nel senso. Sei fatti. Buttiamo sempre un occhio, non so mai. La polizia è bella, bella piena. sta piccolando sempre. Non c'è. Senza dovesse lo c Lesslie. Cosa c'è qui sopra? M-LOK o QUESTENZARONE. Ma prendilo, prendilo. Qua c'è un'altra M-LOK. dobbiamo ottenere il coltello scorpio quanti bk qua? ma che cazzo? non è che lagga parecchio, lagga del tutto stasera è allucinante ci hanno circolato in un attimo hanno sentito le voci, sono avvicinante sempre di fiersi ma è allucinante sta cosa dalle voci questi reagiscono si ma le sentono da troppo lontano ma come li gestiamo? ma poi se stiamo zitti per un po' non c'è 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 un po' era di spalle, l'altro no. L'altro si è strato, l'altro. Sì, è girato all'ultimo, il bastardo! Shhh, ho letto di tamburo! Che figli di puttana, vada! Alla prossima! Io continuo a piedi, eh? Ok Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Sì! 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 Ottimo! Aspettate! Sì! 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 basta? è vuoto vuoto vediamolo, fammi vedere quella schiesetta là dietro trete spacchiamo il clero! che cazzo ti fai? coglione mettiamo la destra o sinistra occhio! ti ho preso? non riuscivo a fermarlo cazzo c'è un pleto a sinistra e c'è un pleto a destra, lo spacco a a a a a a a a a trovare il barile in chiesa sarebbe stato ma sai che c'è tanta ci sono tanti barili tante cose utili e questo è vero non ho visto tante tende dati spacco coglione l'attacca ma ti sventro di occo poco dio e giù brutto figlio di un cane ma sto coglione ma pensa a te ok senti visto che siamo qua vogliamo andare direttamente a calma seppur sarebbe la sera proprio giusta per andare tipo airfield a quei posti da però non voglio a fare assai tardi ma perché ma dobbiamo tornare indire no devi andare dritto è dritto andiamo a rifi è dritto andiamo alla barca e si e calma sinistra è vero che giriamo a sinistra polizia andiamo direttamente verso vero va beh facciamo facciamo un taglio violento allora come vuoi fare il mio guai allora noi adesso siamo alla chiesa qua io direi girati per quella strada là dietro vedi la carcassa della macchina a sinistra si si e punta di là dovrebbe esserci quella strada sterrata che si collega alla strada principale allora io penso Noi e che grazie 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 ah grazie 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 No, solo io dovevo la carcassa della mia macchina qua, 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 io vedevo la carcassa della mia macchina, non ci ho visto.